Questo programma è offerto da Tecnocampus Buongiorno a tutti da Teleprima Benvenuti anche oggi a questa quotidiana Rassegna Stampa Oggi è venerdì 10 maggio e come sempre ringraziamo per questa giornata e per questo momento con l'informazione Tecnocampus Anche questa mattina tanti fatti in primo piano, tante le novità che troviamo sulle testate nazionali Ma cominciamo subito senza perdere alcun minuto e vediamo direttamente quali sono i fatti dei quotidiani nazionali E questa mattina partiamo con il fatto quotidiano E si parte con il Venezuela, il vice del golpista Guaidó prelevato con una grue sbattuto in cella Così Maduro tenta di ripulire Caracas dagli oppositori e Trump intanto fischietta Ma vediamo ancora nella parte alta della pagina Il Papa, diciamo così tra virgolette, schierato con i Rom Infatti contro Salvini dice proprio il fatto quotidiano E Minniti guai a isolare la Raggi Infatti dice il Papa non è civiltà e leghista sprezzante Ognuno incontra chi vuole E' una giornata, quella di ieri, in cui proprio Papa Francesco ha incontrato la famiglia Rom Che è stata minacciata pubblicamente dalle persone del quartiere E l'ha detto proprio il Papa Ogni volta che sento della violenza che vi è stata rivolta io soffro E vediamo infatti assediati dalla forza razzista Ricevuti da Bergoglio, la famiglia difesa dalla prima cittadina della capitale Diventa motivo di scontro tra Francesco e vicepremier L'ex ministro PD, il Campidoglio, ha difeso la legalità E da un lato quindi ci troviamo con una situazione che dice Prima i Romani, prima i cittadini e poi dopo tutti gli altri Ma questo non giustifica assolutamente quello che è considerato Ed è sempre più grave come la violenza Ed ancora vediamo Di Maio non coglie il gesto di Virginia Infatti fossimo stati in Luigi Di Maio Avremmo salutato con legittimo orgoglio Il viaggio coraggioso della sindaca di Roma Al fianco appunto di queste persone E ancora il reportage Una notte in casa della famiglia assalita dai fasci E nella parte centrale della pagina Grandi acquisti Il RAS di Messina arrestato nel 2014 Condannato in primo grado Genovese, 11 anni di carcere Dal PD a Forza Italia al carro della Lega Dynasty Siciliana Il padre, Franco Antonio e il figlio Luigi Un patrimonio da 20.000 voti Sono amicissimi del candidato verde Angelo Attaguile Caronte dell'Isola Colpiscono ancora E ora fanno campagna elettorale per il capitano Pensate un po' E intanto il caso Pirellone PM Su consulenza alla Comi Sentita l'ex signora Salvini Ma quanto è scomodo il libro intervista Al bimbo Matteo Ed infine per la Camera I parlamentari è stato approvato il taglio di due terzi Il PD lo voleva Ma ora invece vota Noi Nella parte destra della pagina Guerra alla cannabis legale Un danno da 40 milioni l'anno L'affare lecito Che da lavoro Così viene definito appunto dal fatto quotidiano E nella parte bassa della pagina Vediamo che si torna a parlare del sanone del libro Si torna a parlare di Casa Pound E soprattutto della politica Che interviene soprattutto in questo momento In quella che è una vicenda tutta italiana Che riguarda la cultura a 360 gradi Stiamo parlando di libri L'elemento più importante in una qualsiasi civiltà Eppure che cosa accade? Che c'è chi è discriminato Ma nello stesso tempo il discriminante si trova nello stesso luogo E la situazione si presenta a quanto molesta Infatti vediamo che è fuori Casa Pound Ecco le altre fascette nere E insomma E non ce lo siamo levati di torno Dice proprio questo quotidiano Il DASPO firmato da Appendino e Chiamparino E' ratificato dagli organizzatori del salone del libro Ma tolto Francesco Polacchi E' un attacco a Salvini Siamo sicuri che di fascio, fascette Non se ne sia rimasta nessuna Abbiamo attraversato i 63 mila metri quadrati del lingotto Alla ricerca del politicamente corretto Sicuramente questa casa editrice Che adesso si trova fuori dal salone del libro Avrà avuto una grande pubblicità E probabilmente questo è il ritorno maggiore Ed ancora vediamo un sondaggio riportato proprio dal Fatto Quotidiano Nella parte più bassa della pagina Italiani senza Dio Pensate un po' Credenti in calo del 7% in 5 anni Ma vorrei fare un appunto proprio su questa situazione Probabilmente non sono i credenti in calo Ma sono semplicemente coloro che si affidano alla religione Le due cose non vanno di pari passo troppo spesso E insomma chi crede è una cosa e chi pratica la religione molto spesso è un'altra Passiamo attenzione a questo e soprattutto valutiamo le differenze Per poter fare un cammino di fede che sia sincero, schietto e soprattutto alla luce del sole E ancora vediamo gli altri fatti in primo piano La verità, vediamo la prima pagina di questo quotidiano Rom favoriti per le case popolari E' il meccanismo delle graduatorie a far scoppiare le rivolte a loro Molti più punti rispetto ai cittadini in attesa Anche da anni e anni Se chi è scavalcato si arrabbia viene definito incivile dal Papa Che però si guarda bene dall'offrire ai nomadi alloggi sfitti della Curia E insomma questa è un'accusa grave ma la situazione si presenta piuttosto articolata La colpa non è né dei cittadini né dei Rom Sicuramente di chi gestisce queste situazioni in maniera ancora non del tutto chiara E soprattutto complicata Visti i tempi in cui vengono assegnate queste case Ma credo che per la normativa in merito ci vorrebbe una vera e propria rivoluzione E soprattutto una gestione differente Ancora vediamo nella parte centrale della pagina Lilli la faziosa se lo attacca rende simpatico anche il diavolo E insomma vediamo anche le altre notizie Chiusi tre negozi la legra apre la guerra della cannabis E così spiazza il Movimento 5 Stelle E nella parte centrale della pagina anche qui Il salone è pieno di libri fascisti ma l'intervista a Salvini è bandita A Torino ha cacciato l'editore Altaforte vicino a Casa Pound I cui titoli vengono venduti dalla rossa Feltrinelli E negli stand furoreggiano Evola e Mussolini E intanto vediamo nella parte bassa della pagina Scandali in Umbria-Renziani contro Zingaretti Niente dimissioni per l'indagata Catiuscia Marini E il Black Rock saluta Di Maio scopre sui giornali Che è svanito il suo salvataggio di Banca Carigie E ancora una volta si parla di navi di migranti E la nave militare raccoglie migranti altro caso 18 A quanto pare questo viene raccontato proprio da questa prima pagina di questo quotidiano Che è la verità ma il Ministero degli Interni si presenta ancora una volta contro il Ministero della Difesa Ma anche in questo caso lo vedremo dopo E nella parte bassa della pagina nell'articolo di piede Eccolo qua dopo nove mesi Bergoglio dà ragione a Viganò Nel motu proprio finalmente condanna l'omosessualità nei seminari Ed ancora voce degli albergatori Bernabò bocca via la tassa di soggiorno Facciamo pagare i turisti mordi e fuggi E ancora ci spostiamo sulle altre pagine dei quotidiani nazionali Vediamo nella giornata di oggi libero E vediamo già il titolo differente da tutte le altre mattine E vediamo eccoci qua nella parte alta della pagina Beni per 9.743 miliardi Ecco la verità sulla ricchezza degli italiani Proprietà e investimenti otto volte più alti del reddito Siamo nababbi superati addirittura i tedeschi E intanto vediamo sempre da questa parte centrale della pagina Il cavallo salvato da un disabile mangiava escrementi Adesso pensate un po' vince le gare E insomma queste sono le notizie in controtendenza Che vengono raccontate dalle prime pagine dei quotidiani nazionali Ma continuiamo a vedere anche libero che questa mattina ci parla di politica E parla proprio di un fatto che ormai è ben noto Libri incensati e censurati Zingaretti elogia l'URSS Democratico Salvini parla dell'amorosa nazifascista Insomma la politica ormai è diventata roba da bancarella E ancora vediamo la crisi demografica Troppe porte aperte Il nostro popolo rischia l'estinzione nell'editoriale di Feltri E vediamo nella parte più bassa della pagina Invece di che cosa andiamo a parlare Eccoci qua Razzismo sinistro I progressisti odiano la libertà degli altri E dovrebbe essere il salone della libertà E invece non è né quello dell'espressione né quello della libertà E ancora titola proprio così questo quotidiano Caso impopolare Il Papa riceve i Rom però non li ospita Insomma sempre più criticato questo Papa Francesco Che ovviamente accoglie gli immigranti Accoglie i Rom Accoglie chi si trova in difficoltà Però viene criticato proprio perché non offre loro una possibilità diversa Quindi non offre una casa, un'abitazione In cui poterli accogliere e magari stare più sereni E vediamo ancora il giornale Nella parte alta della pagina Guerra Salvini di Maio sta con i Rom E vuole la droga libera I Cinque Stelle si schierano con i nomadi Difendono la cannabis E mandano la marina a prendere i migranti Insomma veramente due posizioni completamente differenti Secondo quanto riportato da questa testata oggi Ma soprattutto tanti fatti che fanno ancora discutere E rendono la nostra Italia un paese con due facce Ma probabilmente noi siamo abituati a vederne A vedere i due aspetti di questa nostra Italia Da un lato quello di facciata Dall'altro quello che invece agisce troppo spesso di nascosto Ma vediamo quali sono i fatti in primo piano ancora su questa testata Ed eccoci qua Ovviamente tutte le testate riportano il simbolo degli alpini E vediamo anche perché Gli alpini a Milano 100 anni di eroi E ancora vediamo Eccolo qua proprio L'immagine di questi alpini davanti al Duomo E come abbiamo visto già prima per Libero Lo vediamo anche sul giornale Il cappello, la penna degli alpini E vediamo nella parte sinistra della pagina L'editoriale di Sallusti Ultimo idolo tineggio La democrazia Non è Francesca Francesca è una studentessa di un liceo di Milano Ieri alla Camera Che ha ospitato ragazzi provenienti da tutta Italia Nel giorno della memoria per le vittime del terrorismo Francesca ha strappato l'applauso dell'Aula e di Di Maio Quando nel suo discorso ha detto che i valori fondanti La convivenza civili Paiono messi in discussione perfino da chi riveste alte responsabilità di governo Non ha fatto nomi ma il riferimento a Matteo Salvini e alla Lega Appare ovvio e immaginiamoci si riferisca alla linea dura nei confronti dell'immigrazione e dell'illegalità E ancora vediamo da questa prima pagina Eccoci qua ancora quanti errori dalla Libia al Venezuela Così il Movimento 5 Stelle sta distruggendo i nostri interessi nazionali E cambiamo fronte, ritorno in tv del Cavaliere, centrodestra Berlusconi non vado al governo, il mio nuovo ruolo dice sarà in Europa Insomma oltre il governo scavalca questa diatriba ormai che ha raggiunto termini incredibili E dice io punto direttamente all'Europa E ancora vediamo il retroscena, vediamo dei numeri La Ega sotto il 30% e a Palazzo scoppia il caos E intanto il sogno segreto di Giorgetti, commissario dell'Unione Europea Ancora Zipra Signiot, compagno nella bufera E' quella che viene definita alla sinistra da salotto Mentre nella parte bassa della pagina, anche qui tanta attenzione per il salone del libro Zingaretti come abbiamo già visto elogia l'Ursa Adesso cacciate pure lui, il libro del leader PD E lo scontro su Altaforte, io difendo il valore di potersi dire fascista Questo viene raccontato da Sgarbi Ovviamente non è una definizione che non può essere utilizzata Però sicuramente oggi si diventa più Diventa tutto più complicato in termini e soprattutto in diciture Ma anche perché oggi proprio con la libertà di poter dire quello che si vuole Nel modo che più si crede opportuno Troppo spesso ci si influenza a vicenda Ma soprattutto ci si offende senza rendersi conto di quello che si sta creando E vediamo ancora le prime pagine quotidiane nazionali Ci spostiamo su Il Tempo, Salone di Torino, scelta da dittatura Cacciata la casa editrice dell'intervista a Salvini In Italia lecito solo il pensiero unico, il giudice nordio Ora chiudete le librerie giuridiche Vendono il codice di Mussolini Insomma siamo passati da un estremo all'altro Sempre peggio Sempre più si creeranno questi dissidi Sempre più si creeranno situazioni compromettenti E ancora vediamo nella parte centrale della pagina La cannabis a quanto pare manda in fumo il governo E nella parte destra della pagina Onorevole Taglio, sì della Camera Invece il no del PDO Che è alla riduzione dei parlamentari E nella parte più bassa Europee, quante proposte uguali I partiti si fanno la guerra Pensate un po' con i programmi fotocopia Insomma dovremmo andare a vedere nei particolari I vari programmi per renderci conto effettivamente Di quelle che sono le situazioni Che vengono reclamate e soprattutto paventate Da questi partiti Per renderci conto di dove ci vogliono condurre E ancora vediamo nella parte bassa della pagina Si parla del Papa e Rom di Casal Bruciato Resistere, resistere, Bergoglio riceve infatti la famiglia nomade Un altro caso a Casal dei Pazzi E il centro storico si ribella ancora una volta all'accoglienza E l'ex capogruppo in Campidoglio Parliamo di De Vito ascoltato dai PM Scarica tutto sui grillini Ancora una situazione che si riapre a Roma La stazione è chiusa da ottobre La metro a Repubblica non riapre fino a luglio Mentre nella parte bassa della pagina Roma Metà il DS Se c'è l'allenatore no, siamo sulla parte sportiva Fatta per Petracchi in giallo rosso Ma sul mister è ancora buio fitto E noi non vogliamo che sia buio fitto su Teleprima Ma vi lascio semplicemente a qualche momento di pubblicità E ritorniamo subito dopo Quindi non andate via E noi non vogliamo che sia buio fitto su Teleprima Ma vi lascio semplicemente a chiudere E noi non vogliamo che sia buio fitto su Teleprima E noi non vogliamo che sia buio fitto su Teleprima Ma vi lascio semplicemente a chiudere All'incrocio tra Caserta e il futuro è nato Tecnocampus Un centro direzionale moderno Frutto di un ambizioso progetto di riqualificazione industriale Che ha messo la qualità del lavoro al primo posto Tecnocampus Il nuovo centro direzionale di Caserta È collegato direttamente all'A30 Caserta Salerno E dista pochi minuti dal centro di Caserta Tecnocampus SRL Viale Lincoln Zona industriale Ex San Goben Caserta Tecnocampus La soluzione al centro Ed eccoci di nuovo in studio Pronti per affrontare tutti quelli che sono gli altri fatti In ordine di tempo nelle testate nazionali E continuiamo a sfogliare le prime pagine E vediamo questa mattina che cosa ci racconta Repubblica E vediamo che nella parte alta della pagina C'è un sondaggio E la sorpresa è che Salvini perde voti Insomma, così racconta Repubblica è una sorpresa Ma probabilmente non è una sorpresa per tutti E infatti vediamo che la Lega cala di due punti Scende ancora il Movimento 5 Stelle tallonato dal PD Ma solo un elettore su tre ha deciso come votare alle europee Libro nero, deleghisti sui veti posti dagli alleati al governo Scontro sulla cannabis leggera E Conte, i negozi non si chiudono Insomma, uno scontro diretto Proprio dopo gli annunci che sono stati fatti ieri da Matteo Salvini In relazione a questi negozi che vendono cannabis Però ovviamente in quantità tale da essere considerata utilizzabile E che cosa accade? Che il Premier al contrario dice No, i negozi non si chiudono Non era questo il fatto E ancora vediamo appunto nella parte centrale della pagina Tutte le notizie che riguardano le vicende raccontate dalla Camera Francesca, la ragazza che sfida il Capitano E anche Di Maio, applaude il suo discorso Insomma, sempre più spesso i giovani intervengono nella politica Sempre più spesso i giovani si rendono protagonisti di quei discorsi Che vengono fatti in modo da poter cambiare le cose Un tempo si diceva dobbiamo cambiare, dobbiamo fare la rivoluzione Eppure si rimaneva seduti Si rimaneva tranquillamente a vedere cosa accadeva dai propri televisori Oggi invece sembra che i giovani non ne vogliano sapere di rimanere immobili Anzi, si alzano, camminano e vanno verso la loro meta Diritti senza farsi influenzare da nessuno Insomma, questi giovani che troppo spesso vengono considerati incapaci Troppo spesso vengono visti come dei bamboccioni A quanto pare ci sanno sorprendere E ancora vediamo le altre notizie Nella parte destra della pagina Salone del Libro Non diamo un futuro al fascismo Purtroppo le ideologie politiche non si cambiano Eliminandole dalle situazioni complesse Ma semplicemente facendo una cultura Che passi prima di tutto per la certezza Per la libertà Per la voglia di creare un mondo Che sia diverso da quello fatto finora Ma tutto questo ovviamente è molto molto complicato E ci vogliono momenti di forte aggregazione E troppo spesso quello che non si fa è proprio squadra Questo è il punto importante Questo è il punto su cui focalizzarsi E cercare di andare avanti Ancora vediamo l'inchiesta E quale destino per i 5 stelle Anche questo ancora rappresenta un dubbio proprio del nostro governo Ma ancora una volta Vediamo le prime pagine dei quotidiani E vediamo le notizie in primo piano Sempre dalla Repubblica Presidente Alzisi Ricordi la promessa Ci dia la verità sulla morte di Giulio E ovviamente stiamo parlando di Giulio Regeni E anche da questa pagina Il perché gli intellettuali ancora oggi fanno paura Sembrava che fossero estinti Ma a quanto pare gli intellettuali ancora esistono E per fortuna raccontano una storia Troppo spesso diversa Dovremmo veramente cominciare ad ascoltarci Cosa che troppo spesso non facciamo Ma vediamo quest'oggi Che cosa racconta il mattino Nella sua prima pagina Partiamo dalle notizie brevi Nella parte alta Stasera il party La festa a Napoli del blogger di Vaio Tra gli invitati Belen e la Lopez E intanto le stelle d'Europa per lo sport Anche Sarri in finale Il calcio inglese è di un altro pianeta E ancora la storia Quella del Carpisa Napoli ci siamo anche noi E vogliamo il derby Nella parte alta della pagina Vediamo proprio la notizia principale Di questa testata Ecco ha fatto scalpore la notizia di ieri Del cantiere che comunque è stato bloccato Perché è sottoposto a una minaccia Minacce continue E infatti il cantiere adesso è sotto scorta Il progetto UNESCO di Porta Capuana L'imprenditore molisano accetta di tornare al lavoro Dopo la denuncia del mattino garantita a questo punto La protezione contro le minacce della Camorra E infatti il sindaco della città dice Lunedì il cantiere riaprirà però con tutte le tutele Per chi sta lavorando Insomma le minacce hanno dato il loro segno Hanno fatto in modo che il cantiere si chiudesse Adesso però la lotta continua E l'imprenditore infatti denunciato alla procura Ha aperto un'inchiesta E le loro forze dell'ordine hanno blindato I lavoratori da lunedì sarà un cantiere sicuro Dopo la denuncia del mattino Le istituzioni fanno quadrato attorno all'azienda minacciata Dal racket è costretta a chiudere il cantiere di Porta Capuana Nell'ambito del progetto UNESCO Il titolare molisano ha accettato di tornare al lavoro Circa un anno fa stessa azienda aveva ricevuto intimidazioni E richieste di tangenti Ma la denuncia alle autorità fatta all'epoca Era stata inspiegabilmente sottovalutata E ancora vediamo le testimonianze Ci dicevano venite nel vicolo Che mettiamo le cose a posto E un'intervista in primo piano da questa pagina Brancaccio Achen Andar via vuol dire dar la vinta E clan è parlare Federica Brancaccio Che è presidente dell'Associazione Partenopea Dei costruttori Achen E quanto ha letto alla vicenda del cantiere di Porta Capuana Sfrattato dal clan Ha avviato un sussulto E oltre a dare piena solidarietà al collega Avverte Andare via vuol dire dar la vinta al clan Ma molto spesso è questa la soluzione Che viene adottata Perché la vita è sempre una cosa preziosa E metterla a rischio per ragioni simili Sembra proprio troppo Ancora vediamo lo scenario in politica Le tante prove di contratto Sinistra 5 stelle E nella parte sinistra Eccoci qua Il commento proprio a questa notizia di apertura Serve un piano per combattere la voglia di scappare Ieri aprendo il mattino Si trovavano due notizie Che all'unisono esortavano a prendere Quella che a questo punto può anche parere L'unica decisione sensata Scappare da Napoli Così del resto Aveva fatto senza esitazione nel rimpianti L'impresa spinosa costruzione di Ovviamente di Isernia Impegnata sul cantiere unesco di Porta Capuana In solo 24 ore Gli operai al lavoro Avevano ricevuto due richieste di pizzo Accompagnate dalle relative minacce Scappare o non scappare Questo è il dilemma Ma forse è la soluzione Che più spesso si ritiene opportuna Anche perché dopo il caso Della bimba colpita a Napoli E il padre che ha detto Quando uscirà dall'ospedale La voglio portare via di qua Napoli adesso fa sempre più paura E intanto vediamo lo scontro nel governo La direttiva Salvini Più controlli Giro di vite su negozi Della Cannabis E la Lega Prima ma frena E il rinvio del Brexit Rilancia alla sinistra dell'Unione Europea L'ultimo sondaggio sulle elezioni europee Secondo posto Testa a testa tra PD e Movimento 5 Stelle Questo che emerge dall'ultimo sondaggio Sulle europee Ossia una frenata della Lega Pur essendo primo partito Secondo posto Testa a testa per PD e Movimento 5 Stelle In Europa i sovranisti non sfondano E non arrivano alla maggioranza dei seggi Neanche alleandosi con il PPA Inoltre il rinvio della Brexit Rinancia alla sinistra dell'Unione Europea E ancora vediamo il caso La Marina salva 36 migranti Porti Nuova lite Viminale Difesa E nella parte bassa della pagina Ancora lo scontro sul salone del libro Paradossi a Torino Fuori Polacchi Dentro il Mein Kampf di Hitler E l'analisi La democrazia non si difende Ovviamente con la censura Ancora vediamo gli altri fatti In primo piano Il manifesto Vediamo oggi come racconta La situazione che l'Italia mostra Cannabis fumata nera per Salvini Crociata elettorale del Ministro dell'Interno Lo stop di Conte E la manipolazione della verità Secondo questa testata Rappresentata dal proibizionismo E infatti da oggi comincia una guerra Via per via Negozio per negozio Quartiere per quartiere Città per città Via gli spacciatori La droga fa male Chi parla è il Ministro dell'Interno Salvini L'oggi o le misure previste Per questo rigurgito proibizionista Non sono per ora noti E intanto vediamo nella parte centrale della pagina Sinto Padre Ed eccolo qua Il Papa ha cerchiato Diciamo così Ha cerchiato E i veri cittadini di seconda classe Sono quelli che scartano la gente Il Papa contro il razzismo Riceve in Vaticano 500 cittadini Roma e Sinti Poi l'incontro a San Giovanni Con la famiglia minacciata Casal Bruciato Resistete Esposto delle associazioni Contro Casa Pound E nella parte bassa della pagina Eccoci qua Vediamo la Marina Che soccorre il barcone Viminale contro la difesa E ancora Iran Nucleare civile Trump Stracciato l'accordo Mette all'angolo Roani Avanti Sole più forti Una battaglia contro il regionalismo Differenziato Ancora si parla di questo argomento Ma ancora Non vediamo Le decisioni finali E dal dubbio Questa mattina Cannabis Fumata nera Anche qui Conte tema fuori agenda Il Premier Prena la nuova polemica Tra Lega e 5 Stelle Annullato il Festival Della Canapa Di Torino Un'ottima notizia Che si aggiunge Alle tre chiusure di negozi Di cannabis In provincia di Macerata Dalle parole ai fatti Dopo aver ingoiato Il licenziamento di Siri Vice Premier Salvini Torna su Facebook Per riaprire il dossier Contro la cannabis Particolarmente indigesto E 5 Stelle Gran parte dei parlamentari Grildini Sono infatti Per la legalizzazione Delle droghe leggere E per questo L'uscita di Salvini A tutta l'area Di una reazione Allo sgarbo subito Dal suo sottosegretario Leghista Ma il nuovo fronte polemico All'interno del governo Viene liquidato Dal Premier Conte Che interviene Sulla vicenda Per chiarire La mia agenda È molto fitta E il tema Della cannabis Assolutamente Non c'è E intanto Salvini sbaglia Non esiste Lo spaccio di Stato La canapa Non è una droga A parlare Emantero Del Movimento 5 Stelle Mentre nella parte centrale Papa Francesco Incontra la famiglia Di Casal Bruciato Non è civiltà Ma niente vendette E arriva a San Pietro La preghiera Con il popolo Rom e Sinti Intanto la mamma Senada Lì perdono Ma questa adesso È casa nostra E non ce ne andiamo Intanto la polemica Su Casa Pound Espulsa dal Salone Di Torino Il libro Del leader Leghista Vola E infine Nella parte bassa Della pagina Carriera E del Carriere Delle Toghe È presentato L'Intergruppo Il Parlamento Si scopre unito Sulla separazione Di giudici E inquirenti E ancora Nella parte bassa Della pagina Pensire parole Radio Radicale La non violenza Non fa notizia E Napoli Eterna Braccetto Miserie e nobiltà Insomma Due punti importanti Radio Radicale Verso la chiusura E Napoli Le due facce Di una città Sempre più violenta Ma sempre più bella Insomma Non è il problema Della città in sé Ma di come va gestita E tutelata Questa città Questa è la differenza Purtroppo La ragione per cui Le persone scappano È che non si sentono Tutelate Non si sentono tutelate Dallo Stato Insomma Bisognerebbe agire E farlo in tempi rapidi Ancora vediamo Dalla stampa Il Movimento 5 Stelle Trova il nemico Salvini si occupi Di chi spaccia A Napoli Il leader Della Lega In affanno Rilancia sulla chiusura Dei Cannabis Shop E Di Maio Giustamente dice Collega Cerchiamo di chiudere Le piazze di spaccio E non solamente Quello che stai dicendo tu Intanto il Papa Riceve Rom Dopo gli scontri di Roma Soffro per voi Questa non è civiltà E ora Di Maio Che spaventa la Lega Ancora vediamo Il linguaggio politico E la brutalità Mentre nella parte centrale Della pagina Il figlio di Carla Bruni Dice Lotto per la Francia Fuori dall'Unione Europea Ancora una volta C'è in discussione Proprio la presenza In questa unità E ancora Woody Allen Che Pensate un po' Oggi Non trova un editore E ci spostiamo ancora Sulle prime pagine Dei quotidiani nazionali Vediamo lo sport Con il Corriere dello Sport Agnelli No Conte In attesa del vertice Con Allegri La posizione di Andrea Ora è più chiara Antonio sempre più vicino All'Inter Salvo sorprese Ripensamenti Del presidente Della Juventus Mentre Vediamo nella parte bassa Della pagina Il poker d'assi Tutto inglese Il Chelsea E l'Arsenal In finale D'Europa League Dopo la qualificazione In Champions Di Liverpool E Tottenham Ed infine Nella parte bassa Della pagina Lo scatto di Nibali So come si vince Domani via al giro Vincenzo si candida Non sono vecchio Dice E troppo Tiem Fognini a casa Madrid Fabio K.O. In due set Può già prepararsi Adesso per Roma E intanto Seb scalda la rossa Siamo in Formula 1 Ora tocca a noi In pista a Barcellona La Ferrari Prova a ridurre il gap E ancora Continuiamo proprio Con le pagine Relative allo sport Con tutto sport Vettel smonta La Ferrari Formula 1 Domenica Il GP di Spagna Il pilota tedesco Ammette le difficoltà La mia rossa E come il cubo Di Rubik E nella parte centrale Della pagina Juve Dove vai se allegri Non ce l'hai Avrà le riflessioni Di Agnelli I dubbi di Max Un'altra giornata E trascorsa E senza il fatidico incontro Che deciderà il futuro Della panchina Molti nomi dei possibili Sostituti Conte, Guardiola Sarri, Dechamp Pochettino Ma per chiunque Sarà difficilissimo Ripetere I risultati Degli ultimi Cinque anni E intanto Sarri di rigore Altra finale Tutta inglese Chelsea Arsenal Derby d'Europa E ancora Il mio sacchi Ha fatto le scarpe Al mondo A dirlo E Vittorio Feltri Mentre abbiamo Un reportage Su Magia Mentre la giustizia La giustizia è fatta La B Adesso è solo L'inizio Ancora un momento Di pausa Giusto un breve Attimo pubblicitario Ritorniamo subito dopo Andiamo a vedere però Tutti i fatti Che riguardano La regione Campania Caserta E la sua provincia Quindi mi raccomando Non andate via E restate lì Incollati al televisore La regione Campania La regione Campania All'incrocio tra Caserta e il futuro È nato Tecnocampus Un centro direzionale moderno Frutto di un ambizioso progetto Di riqualificazione industriale Che ha messo la qualità del lavoro Al primo posto Tecnocampus Il nuovo centro direzionale di Caserta È collegato direttamente All'A30 Caserta Salerno E dista pochi minuti Dal centro di Caserta Tecnocampus SRL Viale Lincoln Zona industriale Ex San Goben Caserta Tecnocampus La soluzione Al centro Ben tornati in studio Vi ricordo che oggi è sempre venerdì 10 maggio Siamo qui in diretta Con questa rassegna stampa Come ogni giorno E continuiamo a vedere adesso I fatti che ci arrivano Direttamente dalla regione Campania Da Caserta e dalla sua provincia E insomma i fatti che più ci sono vicini E vediamo subito dalla Repubblica Che cosa accadrà E che cosa Quali sono i fatti in primo piano E si parla di sport Di momenti forti di aggregazione E infatti si parla di Napoli Regata nella notte con cento vele in gara La barca dei ragazzi a rischio A mezzanotte il via infatti Della storica Tre Golfi Dal Circolo Italia Di Santa Lucia Tra 1500 partecipanti E anche l'equipaggio Della comunità Jonathan Infatti vediamo di che cosa si tratta Lo spettacolo infatti Sarà suggestivo Quasi una sorta di capodanno velico Dedicato agli appassionati Ma anche ai semplici curiosi Che stasera si troveranno sul lungomare Davvero da non perdere Il countdown Scatterà proprio a mezzanotte E da Santa Lucia Presso la sede del Circolo del Remo E della Vela Italia Partirà così la 65esima edizione Della regata dei Tre Golfi Un appuntamento diventato ormai consolidato Tradizione dello sport E anche della città Oltre 120 barche di ogni nazionalità Con 1500 vele in gara Il record di presenze Ha reso sold out L'intero porticciolo di Santa Lucia Tanto da costringere gli organizzatori A chiedere accoglienza A tutti i circoli cittadini Che hanno garantito la propria disponibilità L'arrivo dopo circa 150 miglia È previsto nella giornata di domani a Capri Dove poi nei prossimi giorni Si disputeranno anche le regate Sulla boa e costiere Che concluderanno il programma Della settimana velica L'obiettivo per tutti È mettersi ovviamente in mostra E vediamo ancora gli altri fatti in primo piano Si continua a parlare di Noemi Ieri sera in centinaia Con le candele accese Davanti all'ospedale Santo Bono Alcune centinaia di persone Infatti hanno partecipato Ad una veglia di preghiera all'esterno dell'ospedale pediatrico Dove è ricoverata la piccola Noemi Rimasta gravemente ferita In piazza nazionale a Napoli Iniziativa stata organizzata Dalle associazioni dei fedeli Della Madonna dell'Arco Che oltre agli striscioni Di incoraggiamento alla bambina Hanno portato gli standardi Utilizzati dalle processioni E ovviamente si è svolta una processione Con una fiaccolata Ed anche una preghiera collettiva Ma ovviamente non finisce qui Ancora altre notizie in primo piano Dopo vedremo le condizioni di Noemi al momento Ma intanto vediamo questa notizia di cronaca Che in primo piano oggi Proprio sulle testate Sia nazionali che comunque locali Che riguarda il racket E l'impresa che lascia il cantiere Unesco Per minacce E infatti riaprirà lunedì Il cantiere Unesco Che ha chiuso a causa delle minacce per racket All'epilogo della vicenda Dopo che il sindaco di Napoli De Magistris ha ricevuto I titolari della ditta spinosa Che stava lavorando al restyling Di Porta Capuana Da fonti del Comune di Napoli Si apprende che a seguito dell'incontro La ditta ha dato la sua disponibilità A riaprire il cantiere A proseguire nei lavori Pertanto il cantiere sarà di nuovo all'opera Già nella giornata di lunedì E noi controlleremo e vigileremo Proprio per questa Per vedere come procederà questa vicenda E soprattutto per comprendere Se effettivamente Si riuscirà a tutelare questi lavoratori Ancora vediamo Si parla sempre di lavoro Questa volta però Dell'ennesimo incidente sul lavoro Operaio muore nel napoletano Per il crollo di un muro Infatti è accaduto a un uomo 65enne Che stava lavorando a un muro di contenimento In via Stromboli a Napoli Quando gli è crollato addosso L'operaio è deceduto su colpa I carabinieri hanno avviato un'indagine Per accertare la dinamica dell'incidente E verificare eventuali inosservanze Alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro E ancora vediamo gli altri fatti in primo piano Ci spostiamo su il mattino E andiamo a vedere quali sono le condizioni di Noemi Bimba ferita a Napoli In chiesta ha una svolta I primi nomi nel mirino dei PM E infatti guai a bruciare i tempi Guai a mettere a segno passaggi a vuoto Conoscono il tragitto compiuto Dopo essersi lasciato alle spalle L'inferno di Piazza Nazionale Conoscono una parte della ritirata Dopo aver ferito un uomo Target numero uno E la piccola Noemi Ferita per il Rome Per errore Scavano sul territorio Per chiudere il cerchio Attorno all'uomo nero Quello con il casco Quello un po' impacciato Quello che agisce da solo Adesso sanno che qualcuno lo protegge Sanno c'è chi fa quadrato intorno a lui Nel tentativo di far evaporare ogni indizio Però a quanto pare Secondo le prime notizie Sembra che ci siano i primi nomi Effettivamente Ancora vediamo le notizie Che arrivano da Napoli Donna ferita sulle scale mobili Caos ritardi per il metro linea 2 E' accaduto infatti ieri Tra Pozzuoli e San Giovanni Si registrano i tardi fino a 30 minuti Lo stop deriva dalle operazioni di soccorso A una passeggera Che al momento si trova su un treno Nella stazione Garibaldi Questo raccontava ieri il mattino La donna si è ferita sulle scale mobili Nella stazione Montesanto Ed è comunque riuscita a salire a bordo Il convoglio Il personale era in attesa dell'ambulanza La protagonista della vicenda Si chiama Claudio A 21 anni A suo fianco la madre Caduta mentre scendeva sulle scale mobili Ma nella stazione di Montesanto Sembra che non ci fosse Attenzione Possibilità di soccorso Così l'abbiamo fatta salire a bordo Per arrivare a piazza Garibaldi La ragazza ha un piede gonfio E un taglio profondo sulla caviglia Insomma anche in questo caso Bisognerebbe porre più attenzione A proprio quelli che sono i soccorsi I soccorsi immediati Il primo soccorso Cosa che troppo spesso Viene sottovalutata In tutti i nostri luoghi pubblici Non c'è un punto di pronto soccorso Questo vorrei che passasse come messaggio Questo deve essere necessario E fondamentale Per tutelare e per prevenire Qualsiasi disagio E soprattutto per valutare La salute delle persone Soprattutto nell'immediato E ancora vediamo una notizia di cronaca Legna fuori legge Nelle pizzerie Pioggia di multe In Campania Infatti ammonta 30.000 euro di multe Ed ad alcuni gestori E sanzioni per circa 200.000 euro A produttori e importatori di legna Il bilancio delle verifiche compiute Dal nucleo carabinieri CITES Nella provincia di Napoli Benevento Ma anche Caserta Contro l'importazione di legna Frutto di disboscamento illegale Sanzionata da specifici regolamenti europei Le verifiche iniziate ad aprile Hanno riguardato 107 pizzerie Nella provincia di Napoli 34 in quella di Caserta 20 in provincia di Benevento I militari hanno avviato La campagna di controllo Partendo proprio dalle pizzerie Attività dove il legno È maggiormente utilizzato Con una serie di verifiche Incrociate appunto Sulla tracciabilità E ancora vediamo i fatti In primo piano Ci spostiamo a Caserta E vediamo quelle che sono Le notizie In primo piano Il comune chiede infatti Alla regione Il centro sociale è sequestrato Stiamo parlando di una vicenda Che ormai è diventata Di dominio pubblico E che parla di ex canapificio Si va verso una soluzione In due tronconi Vediamo infatti Un'immagine in cui Ci sono proteste In primo piano Il comune di Caserta Chiederà in due steppe Alla regione La disponibilità dei locali Che per anni hanno ospitato Il centro sociale Ex canapificio Sequestrato lo scorso marzo Dalla procura della Repubblica Di Santa Maria Capovetre Dopo aver riscontrato Gravi problemi Nella struttura Di Biala E Littico È il risultato Dell'incontro Tenutosi ieri Negli uffici Della regione Alla presenza Di una delegazione Del centro sociale Del vicepresidente Regione Campania Fulvio Bonabitacola Del sindaco di Caserta Carlo Marino Del consigliere regionale Stefano Graziano E dell'euro Deputata Pina Picierno In primo luogo Dovrebbe tornare Nella diretta Disponibilità Dell'ente Capannone Non sottoposto A sequestro Il 12 marzo E dopo i lavori Di messa in sicurezza Anche il resto Della struttura Di proprietà Della regione Nei prossimi giorni Ci sarà un nuovo Sopralluogo Guidato dal professore Verdename Che dovrà giungere Alla redazione Di una perizia Sulla quale Si possa procedere All'impegno Di spesa Insomma Una vera e propria Svolta Per questa situazione Ormai Divenuta Troppo complicata Ancora Camorra Cronaca Per Caserta Neuso Droga e slot 26 condanni Al processo Jackpot La corte di appello Ribalta alcuni vendetti Pene tra i due Gli undici anni E vediamo Appunto Nelle immagini I tanti Colpiti Da questo Procedimento 26 condanni Inflite in appello Per l'inchiesta Jackpot Che ha consentito Di ricostruire Gli affari Del gruppo Schiamone Venosa Che attraverso Lo spaccio Di droga E l'imposizione Delle slot Riusciva a far entrare In cassa 30.000 euro Al mese Che assicuravano Lo stipendio Degli affiliati Detenuti E ancora Vediamo le altre Notizie In primo piano Ci spostiamo Su Caserta Focus E vediamo I fatti Che nei prossimi Giorni Si verificheranno Proprio In questa Nella nostra provincia In particolare A Maddaloni Premio buone Notizia Young Sabato Al villaggio Dei ragazzi Scusate Premiato Il meglio Delle produzioni Video Delle scuole Ed università Italiane Ricordiamo Che il premio Buone notizie È un premio Che viene dato Proprio all'informazione Positiva Quella che viene fatta In maniera Ottimale Ma soprattutto Buona Nel segno Proprio Degli eventi Positivi Troppo spesso Trascurati O lasciati In ombra Per dare spazio A quelli che sono Gli immensi Fatti negativi Infatti Sarà il villaggio Di ragazzi Di Maddaloni Ad ospitare Sabato 11 maggio Alle 16 La cerimonia Di premiazione Del quarto Premio Buone notizie Young La sezione dedicata I giovani Del premio Buone notizie Con il patrocino Del ministero Dell'istruzione Dell'università E della ricerca Che premia Con le targhe Angelo Ferro I migliori video Giornalistici E creativi Realizzati dai giovani E destinati Ai giovani Delle scuole italiane Che aiutano a leggere In modo nuovo Attento Differente La nostra quotidianità Scoprendo nei lati Più nascosti E di grande valore Il tema dell'anno Uomini semplici Dalle azioni straordinarie E ha raccolto L'interesse Di centinaia Di partecipanti Da tutta Italia E ancora Vediamo gli altri fatti In primo piano Vediamo Cosa racconta Oggi Vivi Campania Che ci parla Di un qualcosa Avvenuto a Benevento Edilizia scolastica Montoruo E gli enti locali Possono presentare Istanze per il 2019 Infatti La regione Campania Ha approvato Con decreto 522 Dell'8 maggio 2019 La modulistica Utile Alla compilazione Delle istanze Degli enti locali Per la partecipazione All'avviso pubblico Relativo Al piano triennale Dell'edilizia scolastica 2018-2020 Per l'annualità 2019 La scadenza Per la presentazione Delle istanze È fissata Improrogabilmente Alle ore 19 Del giorno 27 maggio È un'occasione Imperdibile Per tutti I comuni Della regione Campania E sono convinto Fa notare Mortarulo Che una scuola All'avanguardia Passa attraverso Un'edilizia scolastica Che sia moderna Innovativa Sicura E sostenibile E questo Mi pare corretto Ancora vediamo Da Caserta Prima pagina La giunta di Caserta Propone la cittadinanza onoraria Sor Rita Giaretta Eccola qua La vediamo nell'immagine Accanto a Papa Francesco E vediamo di che si tratta Infatti Nel corso della sua riunione La giunta comunale Ha approvato D'iniziativa D'iniziativa del sindaco Carlo Marino Una delibera Con la quale si propone Al consiglio comunale Di conferire la cittadinanza onoraria Sor Rita Giaretta Il consiglio comunale Esaminerà la proposta Sulla scorta di un parere Che sarà elaborato Da una commissione Preseduta dal sindaco E composta Da due consiglieri comunali Uno di maggioranza E l'altro di opposizione E da due esperti La giunta Ha provveduto anche Ad indicare tali componenti I consiglieri comunali Liliana Trovato E Riccardo Ventre Don Antonello Giannotti E l'avvocata Ilaria Mastroianni La proposta di conferimento Della cittadinanza onoraria Sor Rita Dice il sindaco Carlo Marino Vuole essere un ringraziamento Da parte di tutta la comunità Per il suo amore Verso il prossimo E per il suo Inscindibile legame Con il nostro territorio Ed infine Vediamo le notizie Di sport Sport tutto casertano Che vede la squadra Volalto La Golden Tulip Volalto 2.0 Di Caserta Arrivare in semifinale Per la Serie A E domenica Sarà di scena Proprio al Palavignola Contro la squadra Di Orvieto E vediamo infatti Come ce la racconta Proprio la pagina Della Volalto Domenica 12 maggio L'appuntamento alle 17 Tutti al Palavignola Per la gara 1 Delle finali di playoff Promozione Tra Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta E Zambelli Orvieto Ho deciso di tenere Il prezzo del biglietto Ad appena 5 euro Per dare la possibilità A tutti i casertani E campani amanti del volley E non Di potersi godere Questo spettacolo E con questa bella notizia Di sport Tutto casertano E soprattutto Il rosa Il rosa nero Della Volalto Termina qui la rassegna stampa Di questa mattina Vi ringrazio per aver scelto Teleprima Vi ringrazio per essere stati con noi E soprattutto ringrazio Tecnocampus Che ci offre la possibilità Di stare con voi E raccontarvi l'informazione In maniera critica E soprattutto Commentando i fatti del giorno E anche per oggi è tutto Vi ringrazio ancora una volta E soprattutto Vi auguro una deliziosa giornata Grazie a tutti Questo programma E' stato offerto Da Tecnocampus Grazie a tutti